ciao a tutti benvenuto a casa in play ero rimasto che avevo affrontato il gravios e mi ha fermato qui quindi proseguo so già chi avevo chi devo battere adesso va bene grazie un tasto si è sempre parlato di zampa certo ma tutto nelle strade tutto pure trova riposate e tuttora destrati ma voi ragazzi non vorrei allora non so cosa da riporre questa mosca ma finisce di un preballe scusate ma di abominale in roba maledetta schifosa ecco questa via io devo affrontare il lodrom antirato ancora non raffianco i coglioni ecco me l'arma niente da fare ragazzi sta mosca contiene un po di coglioni ok forse ha finito un pescato sta mosca allora devo cambiare arma e devo mettere questa il resto posso lasciarlo a proposito no allora ghiaccio voi ragazzi ghiaccio e ghiaccio bene si può andare mangiare mangiare il pasto che è meglio vediamo cosa mi da tanto signorino solo mente avvelena per il resto non mi fa niente ha proposto ragazzo mi sentite guardare vedere se no se non sono tre allora giusto tre bene sì l'ho appena fatto con il numero per scatole eccolo qua consiglio la lacrime di verne ma se la trovo non è mai facile trovare stelle lacrime proprio proprio mai bene bene vamos mappa moderazioni ok resistenza al massimo ma però quanto bene la data ottimo tutti effetti del cibo che mi ha mi ha aumentato la l'efficacia delle relazioni pochi regional andiamo ciao no tron ci si rivede ancora e anche ti salto addosso eh già ti spacco la schiena non se la fai lo prei non puoi coglioni eh che fai una brutta fine ok bene vieni qua eh ma vaffanculo prei da merda no drommel bravo dai forza su fai non è facile avvelenarmi carabella già l'arma che è uno schifo che è due balle sempre se posso farlo ok aiuto aiuto muori ma andate a cagare anche voi muori aiuto adesso mi avete scassato una minchia ma vai a cagare stronzo che ne vai a fare i coglioni sì però ora lo preva la sua fede non vi coglioni esistiamo io per la festa bravi ragazzi seccatele perché non ho tanti coglioni e non poco la dromma vieni qua eccoti qua andava una santa ma asana allora loan io re chrotto signora la droga da cazzo sei andato che palle ho questo guadato in culoni a mangiare ancora sta mosca di merda tra poco la faccio fuori meglio so perché viene qua sullo schermo perché è attratto dalla luce la droga eccolo vieni qua mare guardate questo non cazzo salta guardate questo non cazzo che palle star madura sempre meno la vacca guardate questo non cazzo grazie grazie mori guardate questo non cazzo 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 c'è dai c'è questo qua mi salta c'è che non mi ha neanche preso ma vabbè dopo il resto vuoi cazzo diventi stronzo non vale a cagare vieni qua se muori non vale a cagare pezzo di merda non vale a cagare non vale non vale ma è buono aiuto ari ari ma sto qua non intanto ha perso ma va a cagare la droma sei un pezzo di merda fatelo dire non riesca a farmi fuori sono stronze che gran bastardo che sei vieni qua su schifoso bastardo guarda sono qua no cazzo ho tengulato che ci fissa un momento mi frega un momento mi frega tocca è stata morirà adesso è stato male è stato male? non sia perché non mi è che ti sta male dobbiamo andare al massimo via perché la droma è rotta già abbastanza le palle si sei sotto qua starda dai dai che sono qua che è del tre tante ti vuol dire mi pare quei s che mi pare che mi pare mi pare c'è da cazzo vada vado a me che sono qua io eh cosa fai ti ho chiesto di andare giù mi andai a cagare guarda sto stronzo sto giro ce l'ha fatta da giù pezzo da merda ero ti coglioni di boia eppure te la mosca di merda se non si decide neanche che cazzo ha fatto la droga di merda si è deciso da cavarsi i coglioni? si si è deciso da cavarsi i coglioni era ora manco sapere che cazzo fare se la mosca devo farla fuori c'è poco da fare continua a spaccare i coglioni merda non troviamo sono qua dove vai adesso? lo prei dio di quel dio scusate ragazzi ma per sbaglio ho colpito la base di dove sta il 3DS tu ti preoccupi di questa mosca di merda che fa però ti coglioni era grande e l'ho Sì, c'è qualcosa che c'è? Quindi... Mori la drone, merda! Mai dattimo poi gli abbon. C'è tutti in mezzo i coglioni, no? La drone? Devi morire, sai? Tocca anche a te, questa volta. Dove va? Mi qua. Non so cosa aspetta a morire. Non so, non so. Non so, non so. Non so. Non so, non so. Una cosa problematica, eh? Mori! Non vai a cagare! Era ora, zia, vai! T'ha rotto il cazzo abbastanza. E' buon quarto dopo farlo fuori, cazzo. No, poi non lo impete, cazzo, eh. No. Tantico a fine della colla, eh. Mori anche tu! Mori! E' morto. Sopra questa buca volcanica. No. Finalmente è finita. Pelle. Allora, pelle, sacco veleno, pelle, pelle, mettere fuoco, forza, resistenza drago, bacca drago, fungo paralisi. Esistenza drago, sacco veleno, soggetti, piante di linfe, Alex Rotunda, Bravo Reginalde, e via. Perché poi la quota da 400x2 non l'ho capito. Vabbè, a mano quello. Eh, neanche questa è fatta. Tadadam. Diciamo un attimo. Vediamo un po' qua. Salve signora. Salve signorità. Perciò vi variano? Vediamo un po' qua. Beh, insomma, mica tante. Sì. Soprattutto i miei profitti. Ne ho fatto solo 6. Va bene, alla prossima. Ciao piccola Poggi. Che dici? Cambiamo il costume? Sancio pancetta. Andiamo un po'. In realtà te l'ho già messo cos'è. Buccio, mazzo, suvino, peregrino, maiale, cucine, shotwool. Eh, sembra un piccolo ninja. Ma sì, dai, ti lascio così. Non so, ti faccio coccole. Innamorato ho perso. Di me. Allora, ripongo. Pelle Zanna. Non ti aiuto perché adesso non credo non si avrà più. Questa non lo so. E via qua, invece. Sì, lo so. Ok. Allora torno alla sala raccolta. E vi saluto. Bene, ragazzi. Questa è un play fish qui. E ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.